Ormai le donne sono in maggioranza numerica sugli uomini e si sono prese più del 50% del potere concesso. Il bar Moretto è il luogo dove tale potere si esprime al 99%. Nel dietro del bancone c'è un maschio contro tutte le donne. Per fortuna sono tutte donne normali, materne, buone, simpatiche ed efficienti, per la gioia dell'occhio e del palato. In più c'è chi fa sport agonistico e nel corpo a corpo ti mandano all'ospedale. Un avventore esperto di donne dice che la donna è come il cinghiale quando ti punta. Allora che fai il cinghiale? Guarda che io pre... Quindi la donna è come il cinghiale? La donna è la nostra salvezza, sei d'accordo? Eh... Perfetto! Una donna felice, madre felice, moglie felice, marito felice... Dico bene? Chi è felice il marito? Che ti do Marco? Perché si è preso... Sei d'accordo che la donna è superiore all'uomo? Sì, quello sicuramente è vero. Un intervistato. Un intervistato. Davvero? Sì, no. Ma sono d'accordo con te, io lo sto dicendo a tutti, mi bianche per mano, però io non riesco a capirlo perché... Ah, qui se tu vedi che noi ci facciamo dei film qui dentro, che ci sono delle donne veramente in gamba, delle ragazze in gamba, a letto... Delle ragazze in gamba ci sono qui dentro e vanno d'accordo col principale, che è un ragazzo... Certo, tu bevi qualcosa? Un bacio di vino? Due dita. Due dita, lo faccio un bagniero, eh? E' una donna che ti dite due dita, che puoi dire? E' una donna così. Lei è moglie e madre di bambini, quanti hanno i tuoi figli? 16 e 12. Ma li hai fatti a 10 anni d'età? 12? Sì, è una biscottina. No, capito, io sto discutendo sempre sulla donna perché la donna è veramente importante. Sì, no, quella è sicuramente. Ma la donna in politica sarebbe anche importante perché la donna in quel momento quando parla, se è normale, che non è una matta, ma parla come madre, anche come moglie, ma come madre e lo vedi negli animali, la gatta è diversa dal gatto, la cagna è diversa... Perché? Perché ha i figli. Sì. E quindi, sei d'accordo? Sì, sì. Quindi, siamo d'accordo che la donna, per te è superiore all'uomo. Sei d'accordo? Sì, sicuramente sì. Benissimo.